Dopo due anni di pandemia Larino torna a festeggiare il suo patrono San Pardo, una festa che ha radici antichissime. Don Claudio Cianfaglione, parroco di Larino, ha benedetto gli animali alla fonte di San Pardo prima della messa in cattedrale e al termine della celebrazione i fedeli si sono uniti in una fiaccolata terminata alla fonte. Con la benedizione abbiamo visto tantissima gente e quindi c'è un forte desiderio di festeggiare questo santo patrono. Vedo che i larinesi ci tengono tantissimo e quindi sono sicuro che quest'anno sarà una bellissima festa e auguro a tutti i larinesi e ai turisti un bellissimo San Pardo. Siamo qui alla fonte di San Pardo dove appunto la tradizione vuole che il carro che portò 1180 anni fa le reliquie del nostro patrono si fermò e qui scaturì per l'appunto questa fonte a cui i larinesi sono legatissimi e dalla fonte abbiamo preso l'acqua per benedire tutti quegli animali che nei prossimi giorni porteranno processionalmente il nostro santo patrono per le strade di Larino.